Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale Diverse cose di cui parlare, tante cose Allora ragazzi, innanzitutto ci stiamo avvicinando a questa gara Bologna-Juve che io non riuscirò a guardare, sapete bene quali sono i motivi e quindi non farò di post partita Magari ci sarà il buon Kino, il buon Tuselli che mi butteranno dentro qualche contenuto e vedrete bene perché mi sposo e loro saranno presenti al mio matrimonio Diverse cose da analizzare, da spulciare eccetera Innanzitutto il mercato di gennaio Il piano principale che secondo me deve avere la Juve è cercare di correre i ripari con delle soluzioni che non vadano a inficciare ovviamente sulla questione medio-lungo periodo Ne ho parlato ieri con Icardi ma forse qualcuno di voi ha mal compreso quel che dicevo Ovvero a me Icardi non piace, a questa Juve attualmente servono come lui che abbia la capacità di buttarla dentro, di essere il vero porco d'aria di rigore che è detto in senso buono ragazzi, non in senso dispregiativo negativo Tuttavia io per il futuro vedo, cioè vedo, vorrei un altro tipo di numero 9 Per cui mi stuzzica l'idea prestito per 6 mesi e poi addios, si va su un profilo differente Non c'era nient'altro veramente dietro, non c'era nulla di particolare Non ho capito insomma certi commenti Qualcuno ha detto, ma sei ambiguo No, non sono ambiguo Uno come Vlaovic a gennaio facciamo fatica a prenderlo Benissimo, mi prendo Icardi in prestito E poi d'estate cerco di fare un in su Vlaovic Non mi riesce quel colpo, vado su un profilo alternativo Ma giovane, di belle speranze Che possa la Juventus dar valore a questo giovane E che possa anche raccimolarci qualche euro in caso di eventuale cessione in futura Perché ragazzi non ho male, i giocatori vanno e vengono E' inutile che ci ancoriamo al fatto che sarà possibile Insomma nel prossimo futuro vedere delle bandiere Saranno una rarità, per cui è normale che c'è un viavai di calciatori Però se la Juventus vuole ripartire, mettere a posto i bilanci, eccetera Che cosa si fa? Si prende un giovane, lo si fa giocare, lo si fa rendere al meglio Dal momento in cui ci sono le condizioni per una cessione dove ci si guadagna tanto Lo si cede Arrivederci e grazie E' inutile stare lì a competere con società che hanno dietro dei capitali Che la Juventus non ha a disposizione Capitali ragazzi intendo non Exor Perché Exor ha le spalle larghe Ma in me le squadre devono avere una certa sostenibilità economica nel tempo Ci sono squadre come in Premier che hanno molta più sostenibilità Perché i diritti TV sono importanti Il costo degli stadi sono diversi Infatti se si va in Premier a vedere una partita si spende tanto I guadagni per le squadre sono di conseguenza proporzionali a quello che è il costo del biglietto Quindi capita bene che la girano altri capitali La Juventus deve cercare di essere sostenibile E attualmente anche l'ecosistema Italia va a danneggiare queste squadre che hanno l'ambizione di competere con le toppe europee Sì avete capito bene Secondo me insomma ragazzi la situazione italiana è paradossale Cioè la questione salernitana fa ridere i polli Una roba simile in Premier non sarebbe stata accettata Cioè estromettere la salernitana dal campionato di Serie A a metà campionato E' una di quelle puttanate immonde che mi fanno salire il sangue e il cervello e me lo fanno ribullire E' una cosa che veramente mi manda fuori di testa E' una roba impensabile E' una roba da dilettanti allo sbaraglio Da dilettanti allo sbaraglio E' una roba incomprensibile per me E' una follia totale E' una cazzata immonda Cioè ragazzi togliere una squadra Immaginate avere un evento in meno ogni partita praticamente Cioè ogni partita di Serie A Un evento in meno e una squadra che non gioca Per cui tanti soldi in meno Cioè questa roba qua danneggia Al di là di tutto Non solo l'immagine all'estero Che è quella la cosa più importante Perché come cacchio vogliamo presentare Cioè gli altri paesi che vogliono vedere la Serie A Con queste porcate qua Un po' di serietà per cortesia Poi secondariamente danneggia la Serie A Perché io aspetto la domenica per vedere la mia squadra E magari la mia squadra proprio in quella giornata Ha il cacchio di riposo Perché la salernità non è stata estromessa Dalla Serie A e doveva giocare là Io ragazzi non so che dirvi Cioè perdiamo i 20 Perdiamo la faccia E l'immagine è normale che la Juventus E squadre simili verranno ridimensionati Nel medio e lungo periodo A fare una tipologia di mercato Diversa da quelle che fanno i grandi club Che prendono già magari di giocatori top Noi dovremmo accontentarci di far crescere i nostri E di dare sostenibilità in questo modo E quindi questa è la situazione Ci tenevo a parlare anche della Salernitana Perché è una situazione che va a toccare Indirettamente o direttamente E anche la Juventus Da questa situazione Cioè è veramente ragazzi Una vergogna totale Sono imbarazzatissimo Cioè io fossi uno della Lega Mi dimetteri della Lega Calcio Intendo Non della Lega Nord Non c'entra nulla in questo momento Della Lega Calcio mi dimetto Cioè fossi uno del marketing Della Lega Calcio Mi dimetto Perché veramente C'è incapacità Veramente di portare il nostro prodotto Anche all'estero Cioè dove noi dobbiamo Immaginatevi ragazzi E come Guardate Siamo noi che dobbiamo cercare di colmare Quel gap con intelligenza Con innovazioni Con i E invece facciamo ste porcherie qua Cioè facciamo peggio Danneggiamo ulteriormente il tutto Hai presente quando devi cercare di sistemare qualcosa E danneggi ulteriormente Sia in questa roba qua Noi della Lega Seria Per cui Per quanto riguarda ragazzi Le cessioni Secondo me Alla Juventus Sono tutti in discussione Per cui Ne sentiremo di cotte di crude In questo mercato di gennaio Che sta per iniziare Si parla già di Kuluseschi Cedibile Rabiot Non se ne parli Ramsey non se ne parli Bernardeschi Che deve ancora rinnovare Di Bala Che non è ancora rinnovato Ma siamo lì Perché Giorgantù Ne ha Torini Quindi Rinnoverà Morata Rischia Non Insomma Il fatto che La Juve non lo vada a riscattare Si parla di card in prestito Van Danara Lo spinge Ma lui vorrebbe rimanere a Parigi Ma cazzo Mauro Che cazzo fai a Parigi Vai a Disneyland Cosa fai a fare a Parigi Non stai vedendo il campo Neanche col binoccolo Io queste cose non le capisco Però Farebbe comodolo come lui Ma in prestito Senza obbligo di riscatto Sia chiaro E poi andiamo sul profilo giovane Questo è quello che servirebbe Per aggiustare un pelo la stagione A centro campo Si parla di diversi nomi Vediamo Vediamo Che emerge Fatto sta che ragazzi Il ragionamento Alla base di tutto È sempre uno Fuori uno Dentro un altro Fuori due Dentro due Cioè non funziona Che prendiamo qualcuno Con questa complessità E con questi Con questi numeri In rosa C'è anche da dire Un'altra cosa E bisogna ragionare Anche su questo Ci sono dei giovani Che non stiamo minimamente Considerando In uno Juventus del futuro Ovvero sull'E Io lo vedo Molto ben inquadrato Cioè se dovessero cedere I culuseschi Esterni Non ne andrei a prendere Salvo ovviamente Il numero sia inferiore Rispetto a quel che richiede Una rosa Che affronta un determinato Gioco Con un determinato modulo Eccetera Ma sull'E Secondo me È il giovane Che può sostituire Culeseschi Giovane Vai Lo butti dentro Con tranquillità Non gli affidi Le responsabilità Di qualsiasi Partita Però è un giocatore Che sicuramente Può fare la differenza Abbiamo Ranocchia Abbiamo Fagioli Che stanno facendo Molto bene In Serie B Qualcuno mi ha detto È il Vicenza di Ranocchia In Serie B Grazie al Pifero Però Ranocchia Sta giocando Parecchio bene In una squadra Che sicuramente È deficitaria O manca In tanti reparti Rispetto alle altre squadre Signori Questo è tutto Noi ci vediamo domani Un abbraccio E speriamo di avere Novità interessanti Ci sarà la conferenza stampa Di Max Allegri Pre Bologna Juve Quindi tante news interessanti Ciao ragazzi